Grazie a tutti. Grazie anche all'Open Dialogue Foundation per questo importantissimo incontro che si tiene a un paio di settimane da, credo, forse l'unico articolo che abbia sollevato a livello mondiale la questione pubblicata, credo, grazie al lavoro di Fair Trial International sull'Economist un paio di settimane fa, dove in effetti ci si poneva il problema non soltanto dell'ampliamento dell'uso, forse era il 161% più che 61% di aumento, ma soprattutto dell'abuso a fini politici che viene fatto del mandato di cattura internazionale coordinato dall'Interpol e in particolare della Red Notice. Mi volevo collegare alla parte finale dell'intervento della professoressa perché, diciamo, teoricamente siamo tutti d'accordo, ma se lo dovessimo calare sulla realtà italiana già noi avremmo dei grossi, per non dire enormi problemi, a dire che codeste garanzie costituzionali vengono garantite e applicate a casa nostra nei confronti dei cittadini italiani. Tanto è vero che se uno dovesse leggere la raccomandazione che è emessa nell'introduzione del rapporto che ci è stato distribuito oggi, che l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, ha fatto relativamente al controllo, o comunque alle attività dell'Interpol, ci sarebbe da domandarsi, per esempio, che cosa si intenda per sistemi giuridici che rispettano le norme internazionali. Se è vero, come è vero, che l'Italia, da dieci anni in maniera sempre più sistematica, ma da trent'anni, diciamo, in maniera un po' meno costante e sicuramente ormai da undici mesi, è al centro di una serie di decisioni della Corte Europea dei diritti umani che ritengono che noi siamo diventati un criminale abituale, perché violiamo l'articolo 3 e l'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti umani, che sono il primo, tra l'altro, che ha molto a che fare con la questione di cui parliamo noi oggi, cioè che ritiene i comportamenti inumani e degradanti, cioè la tortura, qualcosa che non si dovrebbe praticare all'interno degli Stati membri che comunque hanno firmato questa Convenzione e che riconoscono la giurisdizione della Corte Europea. E il secondo è, per l'appunto, la ragionevole durata dei processi, l'articolo 6, che mi pare di capire, ancora una volta, in teoria, dovrebbe essere garantita a tutti e quindi a maggior ragione anche a chi si trova in condizione di essere difeso, in mani più difficoltose, anche perché non ha possibilità di fornire delle prove. E quindi l'Italia, in teoria, è un paese verso il quale è problematico riuscire ad assicurare delle estradizioni. Lo dico perché io, venerdì scorso, anzi due venerdì fa, ero a Londra, in tribunale, invitato dalla difesa di un cittadino che aveva il problema opposto all'assistito della professoressa che, essendo stato in Italia per un determinato periodo di anni, andato poi a Londra, era ricercato per traffico di esseri umani, terrorismo, per poi arrivare al problema fondamentale che era frode fiscale, perché aveva organizzato un sistema di trasferimento monetario sulla base della tradizione islamica, in particolare quella somala, che in Italia avrebbe dovuto essere registrato, avere partita IVA, avere fatto tutte le dichiarazioni di antimafia. Nel Regno Unito, invece, no. Lui si trovava nel Regno Unito quando è stato raggiunto da questo mandato di cattura italiano dal GIP di Firenze, perché agiva tra Firenze e Prato, e gli italiani hanno, chiedo scusa, l'avvocato di difesa di questo somalo in Inghilterra ha fatto un giro su internet e ha visto che a gennaio di quest'anno è stata adottata una sentenza da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, cosiddetta sentenza Torrigiani, che è divenuta addirittura sentenza pilota attraverso la quale la Corte Europea dei Diritti Umani ha detto Italia, tu violi tante belle cose, ma sicuramente nel caso di specie erano sette persone che si erano riunite e quattro di questi ricorrenti erano difesi da degli avvocati penalisti radicali. La possibilità di garantire il minimo spazio vitale all'interno del circuito penitenziario, che proprio a essere generosi nei confronti dello Stato membro, è di almeno tre metri quadri, mentre invece l'Italia non ne garantisce nemmeno 2,6 e quindi questa è una violazione dell'articolo 3 della Corte Europea dei Diritti Umani. Ma non lo fai solo nei due istituti penitenziari da cui vengono le lamentele di queste sette persone, lo fai strutturalmente e sistematicamente in tutti e 202, 208, non si è mai capito quante siano le prigioni in Italia. Quindi io sono stato convocato a Londra come expert witness per dire che cosa succede in effetti in Italia. E avendo passato la scorsa legislatura per metà nella Commissione Giustizia e avendo visitato decine e decine di istituti penitenziari nel mio tempo libero, ho raccontato in aggiunta alla sentenza Torregiani, in aggiunta al messaggio del Presidente della Repubblica, in aggiunta all'audizione della Ministra della Giustizia, in Commissione Giustizia della Camera di metà ottobre, tutto ciò che è più noto a chi segue queste questioni, anche dal punto di vista militante piuttosto che dal punto di vista istituzionale, e il 12 di dicembre sapremo se l'Inghilterra ritiene che in Italia si pratichi un trattamento inumano e degradante nei confronti dei detenuti. Ora questo è chiaramente un caso che si basa su una sentenza di una giurisdizione internazionale riconosciuta da tutte le persone coinvolte, tranne che dal povero Somalo, ma che comunque ha dei riscontri e anche dei passaggi formali. Nel caso, nei casi che sono stati fatti, e noi recentemente ci siamo interessati con maggiore attenzione, ahimè però con il ritardo, e poi magari si potrà parlare anche di questo, del caso della Chalabayeva deportata, perché così credo si debba dire, il primo di giugno di quest'anno in Kazakistan, in un contesto in cui, oltre ai problemi formali che erano stati sollevati, si sconta l'altro problema che c'è all'interno dei Ministeri della Giustizia, di sicuro, all'interno dei Ministeri degli Interni, laddove questi sono competenti della pubblica sicurezza altrettanto, e purtroppo per certi versi anche all'interno dei Ministeri degli Esteri, che è l'inclusione, o come si dice in burocratichese internazionali, il mainstreaming dei diritti umani all'interno di qualsiasi cosa, perché a questo punto di qualsiasi cosa stiamo parlando, c'è sempre un lato che interessa, il rispetto dei diritti umani, che sono chiaramente in questo caso tutti quelli che hanno a che fare con la libertà individuale dovunque ci si trovi nel mondo. Ora però, se neanche, lasciamo da stare da una parte il Consiglio d'Europa, che in effetti è un gruppo molto vasto, è molto più eterogeneo di quanto non possa essere l'Unione Europea, ma se neanche all'interno dell'Unione Europea noi siamo riusciti ad armonizzare una, ci stiamo tentando in questi ultimi mesi, diciamo, a trovare una normativa comune o armonizzata relativamente all'asilo, tanto che addirittura in Italia noi abbiamo una legge che non esiste, diciamo, di fatto, o che non è sistematizzata in modo tale da poter dare delle garanzie, se non altro di tempistica certa nei confronti di chi fa richiesta, è chiaro che tutto ciò assume una dimensione che da un piccolo caso di specie avrebbe dovuto, attaccando tutti questi elementi che stiamo toccando dal primo all'ultimo intervento e anche i prossimi sicuramente ci aiuteranno, far scoppiare un dibattito politico enorme, non tanto sul funzionario del Ministero degli Interni italiano, che sicuramente da qualche parte c'è e da qualche parte, se non di basso, di alto livello è responsabile di aver o malgestito o gestito veramente molto bene la questione, ma il dibattito qui è politico da una parte e legislativo dall'altra, perché non esistono a oggi strumenti, o comunque la certezza del diritto o lo Stato del diritto in Italia non c'è, ma se dovessimo andare in giro a guardare per gli altri Stati membri dell'Unione Europea, vedremo che su questo tipo di questioni, stante la mancanza dell'armonizzazione delle leggi e delle politiche, inizia a diventare un problema dovunque il rispetto dei diritti individuali. E l'abeas corpus è secondo me il motivo per cui poi, per dire, le ex colonie britanniche sono diventate gli Stati Uniti, il no taxation without representation, era molto più antipatico trovarsi qualcuno che ti viene in casa e ti porta via senza nessun tipo di motivo o mandato giuridico, piuttosto che non farti votare ma farti soltanto pagare le tasse. E questo è il ragionamento che noi dobbiamo porre al centro di questo meccanismo che è stato creato, perché, ripeto, in Italia noi non possiamo neanche sapere il nome del poliziotto che abbiamo davanti, perché non ce l'ha scritto sulla divisa. E questa è un'altra delle questioni che da anni cercavamo di sollevare in Parlamento, ma ci è sempre stato detto che se no poi si mette in pericolo, capito, più che mettere in pericolo i diritti umani di quello che viene eventualmente colpito dal mancanello, la sicurezza individuale del poliziotto. Ma in Italia non c'è neanche il reato di tortura. E da 25 anni il Parlamento, grazie a una serie di governi che si sono comportati in un certo modo, non riesce a codificare neanche una norma, ormai si potrebbe quasi dire, del diritto consuetudinario. Cioè si sa che determinati tipi di trattamenti portati avanti da un pubblico ufficiale sono da considerarsi un crimine, spesso esclusivamente perché le fa qualcuno con la divisa, ma comunque perché hanno una fattispecie ben precisa di non soltanto percosse, ma anche di maltrattamenti mentali, psicologici, comunque li si traducano dall'inglese all'italiano. Ecco, a noi non solo mancano tutti questi strumenti giuridici, ma manca anche il dibattito politico che li possa far promuovere. È vero che occorre qui fare un ulteriore salto di qualità perché si tratterebbe di creare, credo che Fair Trial International abbia fatto delle proposte in questo senso, un meccanismo di monitoraggio indipendente di come lavora l'Interpol. Intanto ricordiamoci che l'Interpol c'è il segretario generale che è la stessa persona da 13 anni e mezzo, che voglio dire. Poi sono sempre americani, per carità, tutte persone che hanno una tradizione specchiata di rispetto dei diritti umani, ma quello è lì come un re. C'ha solo la metà degli anni di Nazarbayev in ufficio, però comunque è lì da una vita e non si capisce come mai non si riesca a trovare qualcuno che ne possa prendere il posto. E secondo me questo è anche un problema, che può essere un problema o di grande presenza o prepotenza americana da una parte, ma anche di grande distrazione da parte degli europei che in teoria dovrebbero essere vicini o dire, guardate che noi, ma forse anche gli americani, perché poi anche gli stati delle due Americhe hanno il loro equivalente di corte interamericana per i diritti umani, abbiamo una certa tradizione che ci dice che sicuramente è importante la guerra terrorismo, la sicurezza nazionale e internazionale, ma altrettanto è importante garantire i diritti individuali. Perché, ma questo però dall'Italia è difficile riuscire a fare una predica, si è innocenti fino a prova del contrario. Ecco, qui purtroppo, e forse è per quello che l'ambasciata kazaka ha riuscito in poche ore a portare via due persone dal nostro suo patrio, qui si è sempre colpevoli e poi si vedrà dopo come va a finire quando sei dietro le sbarre. Fortunatamente né Alma né Alua sono dietro le sbarre, ciò non toglie che non sono più libere di fare quello che vogliono in un paese dove non possono vivere e non possono agire. Che cosa quindi occorre mettere al centro del futuro facendo tesoro di questi casi e sperando che la Spagna, per esempio, non risponda positivamente al Kazakistan. Ieri l'altro io parlavo con i nostri amici deputati spagnoli che avevamo interessato immediatamente e li ho incontrati a Londra al Congresso del Partito Liberale Europeo e mi sembravano ottimisti perché nel frattempo si è riusciti a fare informazione sulla qualità del regime verso il quale si andrebbe a estradare Pavlov. Qui, ripeto, occorre mettere insieme tutti questi vari strati di informazione, in primis perché non tutti sanno tante cose, e di reazione politica poi. E non entro nel problema appunto ottimamente elaborato dell'influenza che un paese possa avere nei confronti dell'altro, perché qui se uno guarda gli amici o comunque i dipendenti, perché alcuni sono proprio veri e propri dipendenti, o consulenti di Nazarbayev in giro per il mondo, è chiaro che solo, io direi, la legge ci può salvare, perché se no gli applicatori della legge sicuramente sono già venduti o già comprati, comunque li si voglia classificare. Però occorre che è bene avere un parlamentare qui con noi, in Commissione Giustizia, in Commissione Esteri, e forse ancora di più, nelle assemblee parlamentari delle organizzazioni internazionali, più il Consiglio d'Europa forse che l'OSCE, questa questione venga sollevata. Partendo dal comportamento dell'Ucraina, partendo dalla Russia, noi abbiamo ospitato Browder più volte in Parlamento italiano, Browder uno degli altri casi che in qualche modo si è riuscito a salvare solo perché è stata creata una campagna mondiale per evitare che dovunque atterrasse ci fossero subito quelli con le manette per portarlo poi a Mosca. Gli Stati Uniti poi hanno risposto con delle sanzioni di viaggio mirate, cosa che da noi non si può fare. però occorre sollevare il problema. Tra l'altro non fa parte del Consiglio d'Europa perché è sospeso, ma anche la Bielorussia non si fa mancare niente quando si tratta di congelare, per non dire di peggio, le opposizioni o l'opposizione democratica nei confronti di questo tipo di regimi. Per quanto ci riguarda, posto che appunto i contributi tecnici sono ottimi, posto che però teniamo, d'oltre al testo, bisogna tenere sempre anche di conto il contesto perché l'Italia è un problema per conto suo per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, la risposta politica secondo me va in due direzioni. Da una parte, ripeto, includere le problematiche legate ai diritti umani in qualsiasi foro o occasione di contatto bilaterale e multilaterale e dall'altra però porsi il problema del controllo dell'Interpol. È vero che non si controllano facilmente neanche le polizie a livello nazionale, però insomma non tentare non mi pare la migliore risposta rispetto alla gravità della situazione che può venire a crearsi perché tra pochi giorni, tra l'altro sapremo cosa dirà la Francia relativamente a Bliasov. Grazie.